e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora fa caldissimo parentesi ma non è questo il problema comunque volevo parlarvi di warhammer 40.000 space marine 2 in uscita il prossimo 9 settembre per gli utenti pc ps5 e xbox series xs la campagna ci vedrà impegnati ad affrontare i tirannidi su diversi pianeti fra cui kataku avarax ed emerium spero di aver pronunciato bene durante la campagna non è vero insomma vabbè la durata della campagna è di circa una dodicina di ore in cui avremo modo di controllare titus in solitaria oppure puntare al multiplayer cooperativo per tre partecipanti e fornire dunque una guida umana anche ai due potenti ultramarine che accompagnano il luogo tenente in missione questi due insomma sono tale shiron e cadriel ragazzi c'è veramente penso di aver perso qualche diottria agli occhiali o come cazzo si chiamano non leggo quello che scrivo cazzo comunque che dire gli scontri sono spettacolari e porteranno a schermo una quantità enorme di nemici dando vita a scontri davvero spettacolari avremo modo di modificare il nostro equipaggiamento al termine di ogni missione dopo essere rientrati alla base con la possibilità di creare la build più adatta all'incarico in cui stiamo per cimentarci infine sarà presente anche una modalità multiplayer competitiva eternal war in cui due squadre composte da sei giocatori potranno sfidarsi all'interno di diverse mappe che includono il classico del match e due varianti più strategiche di cui una di tipo territoriale tra l'altro sono anche affebrato non era questo che vi volevo dire volevo dire che tra l'altro c'è la possibilità come dire di andare a modificare il nostro equipaggiamento quindi con skin questa roba qui però non ci saranno microtransazioni ok quindi non potrete shoppare niente il gioco in generale promette davvero bene secondo me e porta con sé un enorme potenziale vedremo cosa saprà regalarci il team di sviluppo cyber interactive sarà il gioco che tutti gli appassionati della saga attendono faccelo sapere sotto nei commenti il video finisce qui come al solito vi invito a iscrivervi al canale a lasciare un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanina delle notifiche non perdervi gli altri video e supportare il canale vi ricordo che saremo live anche su tiktok per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram e io adesso stacco perché sto morendo di caldo mi sono già intrippato 20 volte in questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ahhh che bella misciata che bella ahhh che bella che bella ahhh che bella